ok ti si aspetterebbe che cantassi la canzoncina primavera invece no giovedì 21 marzo primo giorno di primavera e il nostro quad è composto da un arrap di 20 minuti con 200 metri raw 200 metri run sette power clean e un minuto di rest aumenteremo il peso ad ogni round istruzioni scalature e quant'altro sulla grafica qui di fianco per oggi giovedì 21 marzo è tutto buona primavera a domani con l'ultimo quad della settimana